Al via la nonna edizione di L'Aquila Film Festival, la rassegna cinematografica ideata dall'Associazione L'Idea di Cleves, che quest'anno vede il coinvolgimento delle principali istituzioni culturali aquilane e dell'ordine dei giornalisti d'Abruzzo. 11 giorni intensi, con proiezioni e momenti di approfondimento. Oggi, 8 dicembre, si è sovraesposto, si è aggiunto anche questo giubileo straordinario, per cui abbiamo organizzato un'apertura all'insegno del rapporto tra perdono e vendetta. Alle 18, con lo spettacolo su Frate Francesco, su San Francesco, a Curella Baratelli, e poi dalle 20 apriamo il festival vero e proprio, quindi cominciamo prima con un piccolo aperitivo, e poi alle 21 analizziamo il rapporto tra cinema e vendetta, con la proiezione del film in ordine di disparizione, quindi una dark comedy norvegese, quindi un film bello e importante per aprire il festival. Un festival che si concluderà il 18 dicembre con momenti dedicati alla riflessione e che proporrà al pubblico un interessante spaccato della cinematografia europea, con tante iniziative collaterali a fare da contorno alla rassegna. Sì, è un festival che dura 11 giorni, non sono pochi. È nato dal fatto che abbiamo voluto già da luglio e d'agosto coinvolgere le varie istituzioni cittadine e fare un cartellone condiviso, per cui più spazio per fare non solo cinema, cioè appunto apriamo con il teatro, ci sarà musica, ci sarà un incontro sull'Armenia in occasione del 100 anni del genocidio, analizziamo anche il rapporto tra cinema e giornalismo, c'è concorso, ci sono incontri, un omaggio a Pasolini, c'è veramente tanto, 11 giorni pieni e ricchi con 10 film in concorso, 15 cortometaggi in concorso e tante cose all'esterno, al di fuori.